Le persone che hanno perso qualcuno da poco hanno sul viso una certa espressione, forse riconoscibile solo da coloro che hanno visto quell'espressione sul proprio. Io l'ho notata sul mio e ora la noto sugli altri. È un'espressione di estrema vulnerabilità, nudità, trasparenza. È l'espressione di uno che dall'ambulatorio dell'oculista esce con le pupille dilatate nella bacinante luce del giorno, o di uno che porta gli occhiali e che improvvisamente è costretto a toglierseli. Queste persone che hanno perso qualcuno sembrano nude perché si credono invisibili. Io stessa, per un certo lasso di tempo, mi sentì invisibile, incorporea. Mi pareva di aver attraversato uno di quei fiumi leggendari che dividono i vivi dai morti, di essere entrata in un luogo dove potevo essere vista solo da coloro che avevano anch'essi subito una perdita recente. La sera in cui John morì, mancavano trentun giorni al nostro quarantesimo anniversario. Avrete già indovinato che la dolce e dura saggezza degli ultimi due versi di Rose Almeyer è del tutto sprecata con me. Io volevo qualcosa di più che una notte di ricordi e di sospiri. Io volevo urlare. Io volevo che tornasse.